Buongiorno, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Video rispondo alle vostre domande, l'avevo fatto qualche tempo fa, vi era piaciuto un sacco, forse l'avevo fatto a dicembre, non mi ricordo più, o a novembre, o comunque non da tantissimo, ma vi era piaciuto un sacco e quindi ho deciso di riproporlo. Vi ho chiesto di farmi delle domande sia su Instagram sia su YouTube, quindi le prenderò un po' da entrambi i luoghi, io direi di non perderci troppo in chiacchiere e di iniziare subito perché le domande sono abbastanza numerose e alcune sono anche abbastanza impegnative, quindi cercherò di essere breve ma io poi quando inizio a rispondere so già che mi conosco e so già che poi parto, inizio a dire cose, cose e una domanda mi ci vuole un quarto d'ora per risponderci, quindi non va bene questa cosa, direi di velocizzare subito e di incominciare. Allora la prima domanda che mi viene fatta è quali sono i tuoi obiettivi per il 2022? Allora sicuramente bisogna vedere un po' l'andazzo del covid, prima vediamo come va quello perché in base a quello ci sono degli obiettivi piuttosto che altri, perché se il covid ce lo permette mi piacerebbe tanto a settembre andare via, fare un bel viaggio, il viaggio quello della vita, stiamo organizzando, stiamo mettendo da parte dei soldi per poter andare a New York una settimana, però non sappiamo come si evolverà questo covid e speriamo che i vaccini facciano effetto e insomma che per settembre si possa partire con un minimo di serenità ecco senza, cioè se a settembre siamo come siamo adesso mi sa che qua non si parte. Quindi questo sicuramente è uno dei nostri obiettivi se comunque non verrà fatto nel 2022, nel 2023 o comunque appena si potrà e appena avremo raccimolato tutti i vari soldi. New York si è abbastanza in cima, è abbastanza importante. Poi per altri obiettivi, diciamo che obiettivi importanti per il 2022 è solo New York, poi ce ne sono altri ma cosucce. Altri obiettivi importanti invece li abbiamo ma più avanti negli anni, quindi 2022 New York, grazie covid. Se potessi vivere in un'altra città quale sceglieresti e perché? Allora se parliamo dell'Italia mi piacerebbe, cioè mi piacerebbe, dove sto non sto male, diciamoci la verità. Perché Alessandria comunque è piccolina, ci si muove molto facilmente, anche quando c'è traffico, non c'è un traffico da dire non mi muovo più, cioè comunque io da qui che sono abbastanza ai confini della città, per arrivare dall'altra parte della città in macchina in una giornata normalissima ci impiego un quarto d'ora, quindi è tutto molto vicino. Se c'è traffico ce ne metto 20, quindi mi piace, è comoda, ecco è comoda perché si arriva ovunque tranquillamente. Ma se dovessi cambiare vorrei andare in una grande città invece, mi piacerebbe Milano, però è cara, vabbè, se avessi le possibilità economiche diciamo mi piacerebbe Milano, l'unica cosa un po' che mi turba è il traffico, ma quello tutte le grandi città c'è, però c'è tutto, cioè c'è la comodità di avere qualsiasi roba, io già se voglio andare all'Ikea devo spostarmi, andare a un'ora di distanza, se voglio andare insomma in negozio un po' più che, qui non c'è molto, cioè ci sono due cose messe in croce qua. Quindi, mentre una grande città come Milano ha tutti i servizi, ha di tutto, quindi se parliamo dell'Italia, Milano. Se parliamo dell'estero, perché ci pensai pure, diciamo che New York mi piacerebbe molto da visitare, ma non sarebbe mai viverci. Ecco, sempre se avessi le possibilità economiche, queste due. Comunque da passare da Alessandria, Milano o New York, ecco, c'è proprio un salto, cioè un tutto o niente insomma. Quindi sì, queste due. Ah, New York comunque mi piacerebbe perché praticamente vivere a New York, secondo me, perché comunque non ci sono ancora andata, ma mi piacerebbe. Ma vivere a New York secondo me sarebbe come vivere un po' ovunque nel mondo, perché c'è talmente tante, ci sono talmente tante culture diverse, tante persone provenienti da ovunque. Poi vabbè, io sono un'apatita, mi sono guardata tipo 200, tutti i video che ci sono su YouTube, di gente che vive a New York, italiana, di gente che fa viaggi, praticamente me ne sono viste tutti. Quindi è proprio un pallino, una fissa che ho lì, che devo per forza darci. E quindi mi piacerebbe provare a vivere, avevo pensato anche magari di fare, l'ho pensato proprio così, alla veloce, niente di serio. Avevo pensato a magari fare anche uno o due anni per provare, però ci vogliono veramente troppi soldi, quindi iniziamo con una settimana, poi si vede a vivere. Come va il progetto di crescita su YouTube? Ti manca il lavoro che facevi? Allora, per chi non lo sapesse, io fino a l'estate scorsa, fino a luglio, fino al 2 agosto in realtà, ho lavorato per Sephora nella mia città, che poi ha chiuso. E vai! Vi ho già raccontato in altri video tutte le varie vicissitudini, non starò qui a dilungarmi, comunque no, non mi manca. L'avevo già detto in un video che hanno fatto per me, cioè quelli di Sephora hanno fatto per me, ciò di cui io non avevo il coraggio di fare. Vabbè, l'italiano è da sistemare, ma ok, il senso è quello. Cioè, io non avevo il coraggio di licenziarmi, perché comunque avevo un indeterminato, Francesco all'epoca lavorava ancora in una trattoria, che sapete, a periodo di Covid, la ristorazione era ferma, è stato fermo tantissimo, quindi io non avevo il coraggio di lasciare, e così anche altri mie colleghi hanno lasciato loro. Quindi loro hanno avuto il coraggio di fare ciò che non avevamo il coraggio di fare. E vai! Mi sa che la domanda però non è un'altra. Come va il progetto di crescita su YouTube? Ti manca il lavoro? Ok, quindi il lavoro che avevo? No. Il lavoro di crescita su YouTube prosegue. Ho notato che la crescita si sta focalizzando molto di più su Instagram, cioè su Instagram stiamo diventando abbastanza numerose. Su YouTube va comunque bene, sta crescendo un pochino più piano. Poi vabbè, adesso è appena finito il periodo delle feste, che è stato un periodo più produttivo per me. Quindi adesso c'è un attimo la discesa, però pian piano sto cercando di far risalire. Però procede, sono molto curiosa di vedere dove sarò tra un anno. Chissà, chissà. Come state? Ma allora, bene. Non so bene come rispondere a questa domanda, perché... No, allora, stiamo bene. Se non lo sapete, Francesco è risultato positivo, di nuovo, perché noi due eravamo già stati positivi ad ottobre 2020. Adesso di nuovo e vai! Non ci facciamo... Volevi farne una sola volta. Per ora solo lui è positivo, io continuo a risultare negativa. Domani ho un altro tampone per vedere se ancora sono negativa oppure mi sono positivizzata anch'io, speriamo di no. Però ha avuto solo raffreddore, un po' di mal di gola. Comunque molto meglio rispetto all'altra volta in cui entrambi avevamo avuto febbre alta e siamo stati molto... abbastanza male. Questa volta io, se anche mi fosse positivizzata, comunque non ho sintomi. Lui ha avuto un po' di raffreddore, ma di gola, però che gli sta già passando, quindi giusto due o tre giorni. Quindi per quello bene. Se non guardiamo la salute, comunque in generale te l'è nella vita. Stiamo bene, grazie. Quale aspirapolvere hai e come ti trovi? Allora, io me l'hanno anche già fatta più di una volta questa domanda. Ho il Dyson V11 Animal Extra. La vita. Cioè, mai provato aspirapolvere migliore di quello. Poi vabbè, non ne ho provati tantissimi di aspirapolvere perché ne avevamo uno quando stavo con mia mamma. Uno di quegli aspiratori... Aspirapolveri? Aspirapolveri che hanno tipo il cassone o il tubo un po' a molla che va in giro. Insomma, non mi ricordo manco che marca fosse. Comunque una roba presa 200 anni fa che andava, faceva il suo dovere, ma non ha la potenza di quelli di oggi. Poi ho provato un aspirapolvere sempre senza filo, mi pare, dell'ariete che non era mio, però ho provato da altre persone. Poi un altro sempre senza filo, ma non so, non mi ricordo che marca fosse. Robottini aspirapolvere. Comunque, Dyson, cioè, la vita. Ho provato anche il folletto anni fa, quando facevo uno stage d'Ivrochet, c'era il folletto lì. Però non era così interessata alla pulizia allora, perché avevo tipo 15 anni, o 14, mi ricordo neanche più quanti anni avevo. Quindi aspirava, ma non prestava attenzione. Quindi non ricordo se fosse... Comunque era folletto, quindi immagino fosse buono. Ma Dyson, cioè, proprio amore e vita. Cioè, il folletto ha la pecca di avere il filo. Se non avesse il filo, magari avrei valutato anche quello. Ma, cioè, Dyson, tutta la vita, insomma. Sei capito? Dyson. Come state, carissimi? Un abbraccio grande, siete meravigliosi. Non vedo l'ora di potervi conoscere di persona. Grazie. Allora, sì, stiamo appunto bene. Ce la caviamo. Andiamo avanti. Se io, quando mi dite non vedo l'ora di conoscerti, mi piacerebbe conoscerti, così così, mi sento un po' inadeguata. Come se non me lo meritassi. Cioè, nel senso, non ho fatto niente di che, perché dovresti volermi conoscere così tanto, no? Quindi mi sento sempre un po'... Non lo so, mi fa strano. Mi fa strano. Come sta Francesco con il Covid? Appunto, sta meglio, sta migliorando. Il raffreddore piano piano sta passando, ma per ora è tutto lì. Speriamo che... Speriamo che i tempi siano brevi, perché comunque ho notato che con questa variante, in una settimana, dieci giorni, la gente se la cava e noi l'altra volta per negativizzarci ci abbiamo messo un mese e quindi però sono fiduciosa. Fiduciosa che anche sto giro ce la sbrighiamo in fretta. Quali sono i tuoi hobby? Ami leggere, vedere serie tv, eccetera. Complimenti per il tuo canale. Allora, grazie. Ami leggere? No, mi piacerebbe amar leggere, ma proprio non ce la faccio. Cioè, proprio leggo la prima pagina, poi boh, mollo lì. Ho provato tante volte a iniziare, ma non ho mai portato... No, allora, ho portato a termine dei libri, ma erano compiti di scuola, valgono, perché non credo che valgano. Di mia spontanea volontà? Ma chi si chiamava? Vabbè, era un libro per bambini, non mi ricordo. Comunque, un libro per bambini all'elementare, vale? Era tipo alto così, era proprio un libricino. Sono pessima, sono pessima nella lettura. Serie tv invece tutta la vita. E sto guardando molto più serie tv che film. Cioè, serie tv... Cioè, a volte non ce ne sono abbastanza che mi... A volte mi ritrovo ad avere tipo tre, quattro serie tv contemporaneamente da vedere. Ad esempio questo. Perché stavamo guardando The Walking Dead, ma poi nel frattempo che stavamo guardando questo, erano uscite le nuove puntate della Casa di Carta, anche le nuove puntate di The Good Doctor, e anche Emily in Paris. Quindi alla fine avevo quattro serie da dover continuare. Un macello. Però serie tv adoro, mi piace un sacco anche la fotografia, anche se non credo di essere così tanto portata. Dovrei studiarmela un pochino meglio. Vabbè, il trucco, ovviamente. Poi oggi sono struccata, figuriamoci. No, comunque sono struccata, perché tanto stando in casa col signorino che c'ha il covid, non mi va. Però ho fatto un bel trattamento al naso, per i punti neri, mi sono messa la mia bella crema, e quindi... Ah, tra l'altro per i punti neri oggi scade... Mamma mia, sto mettendo 200.000 discorsi tutti in uno. Oggi scade il mio codice sconto sull'Axure Confidence. Lusso 40 per avere 40 euro sul dispositivo per togliere i punti neri. Andate su Instagram, ci sono le storie in evidenza, perché a mezzanotte di oggi, domenica 30 gennaio 2022, quindi c'è il codice sconto. Altri hobby! Prima del covid mi piaceva andare al cinema. Oggi non so neanche più cosa voglio dire andare al cinema ormai. E mi piace un sacco cucinare. Ci sono tante cose che mi piacciono, che mi piace fare, però comunque che faccio sempre, che mi appassionano molto di più. L'editing, montaggio video, o comunque quello che già faccio. E il trucco. E mi piacerebbe molto anche fare i capelli, però mi piace farlo sugli altri, perché su di me mi stresso perché non vengono mai. Se fossi un profumo, quale saresti e perché? Caspita, domanda difficile questa, perché non ne ho idea. Allora, io amo un sacco di profumi. Cioè non ho il mio profumo identificativo, che metto sempre quello, e la gente quando lo sente sa che sto arrivando. Perché li cambio sempre. No, non ne ho idea. Sicuramente è uno sul dolce, non speziato. Ecco, sarebbe uno dolce, ma deciso. Come si deve? Tipo, tipo Libre di Saloran. Sì, perché decisa, ma dolce allo stesso tempo. Un po' come, un po' come il mio carattere. E basta, io direi di concludere qua, perché il video sta portando avanti già abbastanza. Se vi è piaciuto, se vi piace questa tipologia di video, fatemi delle altre domande, magari me le segno. Anche perché oggi non ho risposto a tutto, perché sennò veramente viene un video di mezz'ora. Ma magari farò una seconda parte, rispondere più avanti ad altre domande, se ne avete. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché non costa niente, ma aiutate me, soprattutto per i miei obiettivi riguardo a YouTube, che è la domanda che mi è stata fatta. Come vanno i tuoi obiettivi? Dobbiamo crescere qua su YouTube, perché su Instagram stiamo andando forte, ma qui dobbiamo ingranare un po'. Dobbiamo andare a pari passo con Instagram. Dai, dai. Cerchiamo di recuperare. Mettete un bel like, perché così aiutate l'algoritmo a far girare un pochino di più i miei video, in modo che tante persone in più possano vederli e apprezzarli, e a me farebbe un sacco piacere. Vi mando un grossissimo bacio. Mi raccomando, ci vediamo la prossima settimana, se riesco con ben tre video nuovi a settimana. Questo, ecco, questo è un altro degli obiettivi 2022. Riuscirò a fare almeno tre video a settimana. Ci riuscirò? Non lo so. Voi intanto mettete like e iscrivetevi, così mi simulate. E vai. Ciao! Ciao!